E adesso non ne parliamo più, eh? Basta! Su, al lavoro, via, su! Immaginate che questo sia il fiume, eh? Questo io e questo il poveretto che stava per annegare. O meglio, beh, questo io e questo l'altro. E lui era lì ghignante e pronto a garmire la preda. Chi lui? Il gorgo! La furia delle acque mi spingeva inesorabilmente verso di lui. E in quell'attimo rividi tutta una vita, la mia vita. Ah, rividi la mia famiglia, voi tutti. Rividi mio nonno, mio buon nonno operoso che fondò questa fabbrica. Capì che era gioco forza tentare di tutto per tutto. L'avevo vogato per otto ore, eppure tenendo con la mano sinistra l'uomo per i capelli, srinzi con la destra il polpaccio straziato da un crampo. Mentre con l'altra vibrava un colpo poderoso sul gorgo che si frantumò in mille piccoli mulinelli. Oramai era fatta, avevo vinto. Grazie. Adesso non parliamo ne più, eh? Tutti al lavoro, che la vita continua. Arrivederci.